I find shelter, in this way, undercover, hide away. CESA, Centro Europeo Estetica ed Acconciatura di Pino Rotili. La prima accademia autorizzata dalla Regione Lazio per il rilascio di qualifiche professionali per estetiste, acconciatori e truccatori. Sotto l'attenta supervisione di Pino Rotili, la scuola CESA vanta un corpo docenti composto da medici, estetiste, acconciatori, che si dedicano con passione e competenza all'insegnamento, utilizzando programmi didattici sempre all'avanguardia. Grazie alle ottime recensioni della nostra scuola e soprattutto all'immagine di Pino Rotili, il tuo inserimento nel mondo del lavoro diviene più semplice. CESA, il tuo futuro, è solo nelle tue mani. CESA, il tuo futuro, è solo nelle tue mani. CESA, il tuo futuro, è solo nelle tue mani. Can I make it better?